Quindi ora che si fa? Beh, i patti sono ancora in città. In tutte le città. Non possiamo trasformarci. La gente è in pericolo. Dobbiamo fare qualcosa. Senti, sappiamo che Rita è sulla Luna, giusto? Allora perché non andiamo da lei? Le roviniamo la festa! Snizzard e il Minotauro ci fermeranno. A meno che non li togliamo di mezzo. È un'ottima idea. Io potrei pensare a qualcosa che li tenga lontani dalla Luna e anche lontani da noi. Posso usare la tecnologia che ho sviluppato per Adam e Aisha. E io scommetto che ce la farei, Billy. Adoro quel tuo cervellone. Sono fatti di metallo, giusto? Forse possiamo sfruttare quello. Oh no! Quella è... Min! Min!